Un nuovo commissariato della Polizia di Stato a Ciro Marina, grazie al piano dei presidi delle Forze di Polizia per l'anno 2023, approvato dal Ministero dell'Interno lo scorso dicembre, ne dà notizia proprio il Viminale, secondo cui il nuovo commissariato rappresenta un rilevante segnale dell'attenzione riservata al territorio sotto il profilo della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e consentirà al tempo stesso di potenziare alcuni servizi resi ai cittadini sotto il profilo dell'attività amministrativa. Per la sottosegretaria all'interno, Vanda Ferro, si tratta di un impegno che come Fratelli d'Italia avevamo assunto con le comunità locali e i sindacati di Polizia e che abbiamo mantenuto appena arrivati al Governo. Grazie alla sensibilità del Ministro Piantedosi, aggiunge Ferro, siamo riusciti a rafforzare la presenza della Polizia di Stato in una realtà molto delicata.